Salve a tutti. Oggi farò una classifica degli 11 film horror più belli che abbia visto, tra quelli usciti da 10 anni a questa parte. Secondo me nessun film può fare paura, visto che le classificazioni sono arbitrarie, ho seguito quella del sito My Movies. Che per quanto discutibili io fondamentalmente cerco i film su My Movies, quindi non terrò in considerazione i film classificati come thriller o drammatici. Oppure film che non sono esattamente horror classificati come tali. Dato che mi sono piaciuti lo stesso ve li consiglio comunque. Ovviamente se ci sono film che non ho visto non li ho messi. 11. La casa muta, 2010, è un film tecnicamente fatto bene, la fotografia azzeccata, le atmosfere sono buie. La particolarità è che il regista ha tentato di realizzare un unico piano sequenza. Il problema è che è vuoto e stupido dal punto di vista della trama. È molto banale, la recitazione è pessima e scontata, i personaggi sono privi di spessore psicologico. C'è solo una scena vagamente inquietante per via di un'anemia infantile che ti rimane in testa. I film non mi fanno mai paura, ma le musiche in certi casi sì. Ve lo consiglio solo per la realizzazione tecnica. È un capolavoro mancato. Se ci fosse stata una buona sceneggiatura sarebbe stato memorabile. 10. Grindhouse, a prova di morte, 2007, e di Quentin Tarantino, che non ha bisogno di presentazione. Non è esattamente un horror, è più che altro un film d'azione con delle scene piuttosto violente, ma la trama è quello di uno slasher non convenzionale. Kurt Russell è molto azzeccato nel ruolo, il doppiaggio di Pannofino è perfetto, la regia degna di Tarantino e la fotografia è eccezionale e azzeccata per il film. Il film è pieno di sorprese e colpi di scena o cose che normalmente non vi aspettereste. È un film completamente sui generis. Tarantino fa letteralmente quello che vuole con la macchina da presa alla sceneggiatura. Brave anche le attrici della seconda parte del film. Non vi racconto altro, è tutto da vedere. 9. It Follows, 2014, a proposito di Tarantino, lui ha commentato questo film più o meno in questo modo. È buono ma non ottimo e si poteva fare di meglio. Io sono d'accordo con lui. L'idea alla base io personalmente non l'ho mai trovata in alcun film. È semplice, fino a prova contraria e originale, ma efficace. Dopo che l'ho visto la prima volta ho pensato finalmente una buona idea originale. Il film è intriso di un'atmosfera strana, cupa, triste, perché i protagonisti, che sono dei ragazzi molto giovani, sembrano non avere genitori. Come se vivessero tutti insieme, all'inizio pensavo che fossero tutti fratelli. Essi sembrano abbandonati a se stessi. L'orrore che sta alla base del film è qualcosa che ti mette nelle condizioni di non essere al sicuro da nessuna parte e di non poterti fidare di nessuno. Il film vuole dare un messaggio ai giovani che io personalmente condivido. Come dicevo all'inizio il film non è perfetto, si poteva fare molto di meglio, alcune socchezze si potevano evitare. 8. Autopsi, 2016 Innanzitutto è uno splatter, io detesto gli splatter, ma in questo caso è perfettamente sensato, anzi è inevitabile, perché è un film su un'autopsia. Il realismo di questo film può disturbare parecchio. Il medico che fa questa autopsia, insieme al figlio, si ritrovano a indagare sul mistero della morte di questa ragazza? Che a quanto pare la scienza non può spiegare. Anche se a un certo punto mi sono chiesto se fossero medici o macellai. Alla fine però si ritrovano in un horror normalissimo e abbastanza banale e prevedibile, anzi, anche questo film ricicla un elemento oramai consumato, trito-retrito. Peccato, però per il resto è uno dei migliori che abbia visto finora. 7. 14-08-2007 Il film è tratto da un romanzo di Stephen King. Uno scrittore che visita i posti infestati di dichiara scettico sul paranormale a tutti i costi. Sostiene che in nessuno dei posti da lui visitati ci siano fantasmi o presenze. Così decide di affrontare senza paura la camera 1408 di un albergo, considerata qualcosa di inspiegabile che non lascia prigionieri. Non vi dico altro, guardate voi stessi cosa accade in quella stanza e poi fatevi una vostra opinione. 6. La notte del giudizio, 2013 È un film senza né sovrannaturale e né scene eccessivamente esplicite. In questo film distopico per una sola notte all'anno ogni legge è abolita perché così facendo nel resto dell'anno i crimini erano diminuiti. Un'arancia meccanica legalizzata. C'erano persone che si erano premonite per stare al sicuro in casa, altri si erano organizzati per andare per strada a commettere ogni sorta di nefandezza. Alcuni ragazzi andavano in giro con delle maschere proprio come in arancia meccanica. Qui si vede la differenza tra chi fa il bene perché lo ritiene giusto e chi lo fa solo perché la legge gli impedisce di fare del male. Vedi il tuo vicino di casa diventare una belva perché la legge non lo punisce. Qui anche gli atti di altruismo vengono ripagati con la violenza. E da vedere, sono rimasto stupito. 5. Unfriended, 2015 Chi ha visto qualcuno dei miei video sa quanto io odio i social network. Questo film è girato completamente mostrando il desktop di una ragazza molto giovane. Fondamentalmente è una chiamata Skype, poi divenuta una chiamata di gruppo, dove si alterna tra chat, Facebook e un sito simile a YouTube. Il film tratta di un atto di ciberbullismo che ha portato una loro coetanea al suicidio. Ho trattato più volte di questo argomento sul mio canale, e questo film parla proprio di questo. Ahimè ci sono delle pecche. Ci sono cose copiate a Sav, l'enitmista, film che tra l'altro a me personalmente non è piaciuto moltissimo. Oltre che a so cosa hai fatto. Altri non ve li dico per non farvi spoiler. 4. Warren Bodies, 2013 Nemmeno questo è esattamente un horror, anzi, non lo è per nulla. Questa è la storia di uno zombie che per motivi non chiari riprende lentamente e progressivamente coscienza e inizia un percorso di guarigione per ritornare umano. Elemento che contribuirà a velocizzare questo processo è l'incontro con una bellissima ragazza che salverà dai suoi simili, egli poi stimulerà gli altri a riprendere coscienza e a tornare umani anche essi. Se non fosse successo ciò a loro si sarebbero decomposti e ridotti a scheletri neri senza alcun briciolo di umanità. Il fatto che stessero ritornando umani è una grande sfida verso coloro i quali si difendono dagli zombie sparandogli. Questo ragazzo ha dovuto vincere la sua natura di zombie che lo portava ad azzannare la gente e a mangiare cervelli per ritornare umano. Ribellandosi alla sua stessa natura alienata per tornare alla sua natura vera e propria. È un film sociologico e politico anche se può non sembrare così. A me ricorda Matrix e la caverna di Platone. È una sfida non solo ai pregiudizi, ma anche al conformismo, perché gli zombie veri, come viene mostrato fin dall'inizio del film, e ovviamente c'è molto romanticismo, anche se anomalo. La mia scena preferita è quella dove si scopre che lo zombie protagonista colleziona e ascolta vinili, tra cui il rock classico e si mettono ad ascoltare Patience di Guns N. Roses. La ragione per cui ascolta vinili è che il suono è più vivo, cosa paradossale, perché lui è uno morto. 3. Con gli occhi dell'assassino, 2010. È un mixtr thriller, orrore drammatico. Mette ansia, perché tratta di un argomento davvero duro, cioè la cecità. Il film parla di una donna che indaga sul presunto omicidio della sorella. Quest'ultima era diventata non vedente per una malattia e sua sorella lo stava per diventare. In questo film non ci si può fidare di nessuno, qui si tratta di capire se quella donna si sia uccisa e quindi se la sorella si immagina gli elementi a sostegno dell'ipotesi dell'omicidio, oppure se effettivamente c'è un assassino. E certamente non vedere non aiuta se c'è un presunto assassino. Essendo un thriller non vi dico altro, altrimenti vi rovinerei molte cose. Il film è pieno di sorprese e colpi di scena, vari sospetti, varie piste d'indagine, vari indizi, varie sviste. Se è sovrannaturale oppure razionale, se è follia oppure realtà, insomma fino alla fine non saprai cosa è davvero successo. 2. Oculus, 2013. Questo film consiste nell'indagine su un evento drammatico e paranormale. Due fratelli, lui scettico e lei convinta dell'origine paranormale dell'evento, ma lui è stato in manicomio da quando era solo un bambino. E' scettico perché gli hanno fatto il lavaggio del cervello, anche se non fosse paranormale e i due protagonisti si stanno suggestionando. Non vi dico altro, nemmeno questa volta vedetelo e ne vale la pena. 1. Antichrist, 2009. E' uno dei film più discussi di Lars von Trier. E' solo per stonaci forti, sia per le scene che per i contenuti, sia violenti che sessuali. E' uno dei film più antropologici che abbia mai visto. Tratta fondamentalmente della famiglia, del lutto, dei due sessi, del rapporto con la natura, ma è un film criptico. Ed enigmatico, non ci sono parole per descriverlo, i suoi significati li dovete trovare voi. Ripeto, è un film per stonaci forti. Detto questo buona visione, alla prossima.